del sabato. Andiamo avanti, andiamo avanti con il volley, con la Bartoccini Perugia che si prepara ad affrontare la nuova stagione in serie A2, tante amichevoli per la squadra del presidente, il patrona Bartoccini e con tanti volti nuovi. Sentiamo Elena Ballaragno. Saranno sei i test match che disputerà durante questo mese la Bartoccini Gioielleri Perugia, la squadra neopromossa nel campionato nazionale di volley di serie A2 femminile che comincerà il prossimo 8 ottobre. Martedì 12 alle 19 le ragazze di Fabio Bovari presso il Palevangelisti affronteranno il San Giustino, venerdì 15 alle 17 giocheranno a Pesaro, mercoledì 20 alle 19 saranno al Palachemon di San Giustino e ancora sabato 23 alle 17 a San Marignano, martedì 26 alle 19 a Ravenna e infine sabato 30 alle 17 si cimenteranno in casa di nuovo contro Ravenna. Nel frattempo si sta chiudendo la seconda settimana di allenamenti. Lunedì prossimo, commenta coach Fabio Bovari, partirà la terza settimana di preparazione dove abbiamo programmato due test match, sia per vedere come le ragazze hanno assimilato i piani di gioco e sia per fare un primo bilancio sul lavoro svolto fino ad ora. Con questi incontri, prosegue il tecnico, vorremmo capire come il gruppo deve ancora lavorare per prepararci al campionato. Come tutti i test match queste partite hanno una forma previsionale in vista di questo campionato di serie A2 che si prospetta lungo e molto competitivo. Non ci aspettiamo cose particolari, dobbiamo capire a che punto siamo arrivati, cosa abbiamo fatto e quali sono le sbavature da sistemare per arrivare giusti e puntuali alla prima partita prevista per il prossimo 8 ottobre. L'appuntamento è quindi per martedì prossimo, 12 settembre, alle 19 al Palevangelisti di Perugia. Il primo avversario delle magliette nere sarà il...